Shalom, voglio condividere con te una piccola riflessione. Secondo gli antichi pensatori ebrei, la Torah era l'espressione della volontà di Dio resa accessibile agli uomini, ed essi hanno coniato una definizione specifica a questo credo. La Torah parla la lingua degli uomini, Moshe Maimonide nella sua Guida dei Perplessi. Successivamente altri rabbini hanno ripetuto questa affermazione affermando favorevolmente il pensiero di Maimonide. Questo significa che se la Torah si fosse espressa in un linguaggio differente, l'uomo non avrebbe avuto l'opportunità di accedere a quei misteri che da un lato Dio nasconde, ma che i re, con la gloria che li distingue, dall'altro lato investigano, come dice Proverbi 25.2. Non credo sia un caso che proprio il Messia Yeshua si sia paragonato proprio a quella Torah che gli ebrei pensavano fosse, e pensavano e pensano tuttora, fosse l'espressione del Verbo Divino resa accessibile all'uomo in forma testuale. E a riguardo, nel Vangelo secondo Giovanni 3.12, Yeshua dice una cosa di molto interessante. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Cosa sta dicendo Yeshua? Si sta identificando con la Torah. Lui è la Torah vivente e in quanto tale i suoi insegnamenti li ha resi accessibili agli uomini parlando delle cose terrene, cioè secondo il linguaggio degli uomini, per quello che era il pensiero di Maimonide. Mentre se avesse parlato delle cose celesti, ovvero usando un linguaggio inaccessibile, gli uomini non lo avrebbero compreso. Come vediamo non abbiamo la necessità di andare a trovare scritto letteralmente nella Bibbia che Yeshua è il Messia, anche se lo troviamo diverse volte nelle epistole, o Yeshua è Dio, o Yeshua è la Torah vivente. Non è necessario trovare questi riferimenti letterali per credere davvero che Yeshua è il Messia divino, nonché il verbo di Dio incarnato, il verbo vivente. E perché non c'è questa necessità? Perché innanzitutto determinate cose vengono rivelate direttamente dal Padre Celeste e non dagli esseri umani o da carne e sangue, secondo il consueto modo di esprimersi della scrittura. E in secondo luogo perché Yeshua, nel brano di Giovanni 3,12, si sta già dando al suo auditorio una definizione autoreferenziale di chi egli sia, identificandosi nella stessa maniera di come gli antichi pensatori ebrei hanno concepito e identificato la Torah scritta, il verbo divino reso accessibile nella lingua degli uomini. Quindi le parole di Yeshua sono una prova biblica, alla luce del pensiero ebraico ortodosso, che egli incarna il dono di quella Torah vivente che il Padre Celeste ha dato e reso accessibile agli uomini, secondo la lingua degli uomini. Shalom.